Allora, sì, cominciamo. Buonasera a tutti. Io mi presento velocemente e presento le colleghe e le introduco. Sono Simona Giuri e sono anche psicologa e psicoterapeuta e referente dell'area didattica di Studi Cognitivi e Studi Cognitivi è l'ente che sta organizzando queste serate. Studi Cognitivi è primariamente una scuola di specializzazione che ha diverse sedi in tutta Italia. In ogni sede c'è via ferente di un centro clinico come appunto quello di Modena. Tutti i professionisti che lavorano all'interno del Centro Studi Cognitivi hanno un approccio cognitivo comportamentale. Questo è il secondo incontro che organizziamo in occasione della settimana del cervello. Sarebbe stato bello farlo in sede ma purtroppo le condizioni attuali non ce lo permettono. Ci saranno sicuramente altre occasioni. La serata di questa sera è appunto alla scoperta della DHD e DSA. Presento le colleghe che abbiamo qui con noi che terranno la serata. La dottoressa Epis Alessandra è psicologa e psicoterapeuta con una formazione specialistica in neuropsicologia. Si occupa all'interno del nostro centro sia che in dieta adulta ma appunto anche di età evolutiva. Nello specifico del nostro centro quello che fa è proprio lo svolgimento. Tiene lo svolgimento delle valutazioni neuropsicologiche e in particolare anche l'attività di potenziamento delle funzioni neuropsicologiche e anche lo dico visto che siamo extra regione possibilmente anche referente equip DSA in Lombardia. Invece la dottoressa Poli anche psicologa e psicoterapeuta si occupa in più soprattutto degli aspetti emotivi di questi tipi di percorsi, degli percorsi anche individuali alla valutazione. È coordinatrice per chi fosse della zona dell'associazione elasticamente e oltre agli aspetti appunto emotivi nei percorsi individuali si occupa dei percorsi di sostegno per l'utilizzo di quelli che sono gli strumenti poi compensativi. Questo insomma a grandi linee. Proprio per presentarle spero di aver detto tutto. Non rubo altro tempo perché poi avranno modo le colleghe di rispondere, di entrare nello specifico e vi lascio insomma la serata che sicuramente sarà più interessante di questa mia introduzione. Ringrazio tutti, buon lavoro e buona serata. Grazie Simona, grazie mille. Vi dico già che essendo tantissimi stasera cercheremo di gestire le domande nella prima parte mentre la dottoressa Epis farà la sua parte. Cercherò di raccogliere le domande e in alcuni momenti dedicate alle domande risponderemo e così farà la dottoressa Epis quando parlerò io. È una persona che asso già per le slide. Le slide verranno mandate assolutamente e essendo divise in due parti, una parte più corposa tenuta dalla dottoressa Epis, verrà fatta una scrematura e poi invece per quanto riguarda gli aspetti emotivi verrà inviato tutto il materiale. Intanto appunto passo la parola alla dottoressa Epis e buona serata. Perfetto. Allora, buonasera a tutti e faccio subito partire le slide, così le condivido. Allora, io e la dottoressa Poli stasera vi presenteremo quelli che sono appunto i disturbi del neurosviluppo più frequentemente diagnosticati in età evolutiva, quindi disturbo di attenzione per attività e disturbi dell'apprendimento. Vedremo insieme qual è la sintomatologia presente in questi disturbi, quindi quali sono le caratteristiche anche comportamentali che sono evidenti nei bambini che presentano questi disturbi, qual è l'iter diagnostico, quindi che cosa fare quando il genitore piuttosto che l'insegnante si accorge della presenza di campanelli d'allarme o appunto della sintomatologia specifica e la dottoressa Poli vi parlerà poi di quelli che sono gli aspetti invece emotivi, quindi le difficoltà emotive che spesso questi bimbi presentano. Allora, partiamo con il disturbo di attenzione per attività, quindi vediamo insieme che cos'è. È un disturbo evolutivo dell'autocontrollo, quindi il bambino fatica a controllare che cosa? L'attenzione e la concentrazione. L'attenzione in tutte le sue componenti, quindi il bambino con ADHD fatica sia a focalizzare l'attenzione su alcuni dettagli perché è facilmente distraibile, è permeabile a simoli esterni. Quindi se sta facendo un'attività ma sente un rumore esterno piuttosto che passa una farfalla o una mosca, si orienta verso questo stimolo e spesso perde l'orientamento verso ciò che sta facendo. Ma sono bimbi che fanno molta fatica anche a prestare attenzione per lungo tempo, soprattutto a ciò che devono ascoltare, ma in particolare i bimbi con ADHD fanno fatica a prestare attenzione per un tempo prolungato, quindi la compromissione maggiore è per quanto riguarda l'attenzione sostenuta. Fanno fatica a controllare gli impulsi, quindi nel momento in cui il bambino ha una spinta, un bisogno, vorrebbe soddisfarlo subito, quindi fa fatica ad aspettare. Questo lo si vede sia nelle attese, non so, è al supermercato piuttosto che è dal medico, piuttosto che è quello che riportano spesso gli insegnanti. Quando sono a scuola sono bimbi che anche se alzano la mano fanno fatica ad aspettare che l'insegnante dia il permesso di parlare, quindi fanno proprio fatica ad aspettare il momento giusto per poter parlare piuttosto che fare qualcosa. Fanno molta fatica anche nel controllare il comportamento. Questo sia da un punto di vista motorio che da un punto di vista di regolazione emotiva. Da un punto di vista motorio cosa vuol dire? Che sono bimbi che sono frequentemente in movimento, fanno fatica a stare seduti al proprio posto, hanno bisogno di muoversi, quindi spesso girano per la stanza anche in modo afinalistico, cioè senza avere uno scopo, un obiettivo ben preciso. Ma sono bambini che presentano spesso anche una difficoltà nella regolazione delle emozioni, quindi frequentemente sono bimbi che hanno delle reazioni emotive molto intense, proprio perché faticano a gestirle. Queste difficoltà rappresentano un ostacolo spesso per il raggiungimento degli obiettivi personali, portano delle conseguenze sul piano emotivo di cui vi parlerà dopo la dottoressa Poli e spesso portano anche a sconforto e stress sia nei genitori che negli insegnanti, proprio perché soprattutto i bimbi con ADHD sotto tipo iperattivo impulsivo, poi li vedremo nel dettaglio, sono bimbi effettivamente molto simpatici ma molto difficili da gestire, molto difficili anche da contenere. Nello specifico ADHD è un disturbo del neurosviluppo, si stima che i bambini nel mondo che presentano questo disturbo variano dal 3 al 5%, vi è una forte componente genetica, quindi le ricerche ci riportano che il 75% dei casi di bambini che presentano ADHD hanno almeno un genitore con lo stesso disturbo e è definito un disturbo del neurosviluppo anche perché vi sono delle aree cerebrali specifiche coinvolte in tale disturbo, in particolare le aree prefrontali e il cervelletto risultano anatomicamente ridotte e anche da un punto di vista funzionale vi sono appunto delle anomalie e le stesse anomalie sono presenti anche nella trasmissione dei neurotrasmettitori, in particolare dopamina e noradrenalina. Cosa succede? Che i bambini con questo disturbo hanno una bassa soglia di eccitazione che cercano di compensare con la ricerca di altri stimoli, solo che questo porta a difficoltà d'attenzione e ad un comportamento iperattivo. Esistono diversi sottotipi di ADHD in base alla sintomatologia presente, quindi in base alla difficoltà specifica presente nel bambino. Un ADHD sottotipo disattento è quel sottotipo di disturbo che presenta come sintomatologia prevalente appunto una disattenzione. ADHD sottotipo iperattivo, impulsivo invece presenta come sintomatologia prevalente appunto un'iperattività, quindi una tendenza ad essere sempre in movimento, ad essere una difficoltà a stare seduto, o una tendenza a manipolare gli stimoli presenti sul tavolo, ma anche un'impulsività, come vi dicevo prima, una difficoltà nel rispettare il proprio turno sia nella conversazione, ma anche una tendenza a voler soddisfare subito i propri bisogni. E un ADHD sottotipo combinato che prevede invece sia una disattenzione che un'iperattività e un'impulsività. Se entriamo nello specifico, i bambini con ADHD sottotipo disattento sono i bambini che vengono descritti come classici sognatori ad occhi aperti, quindi le insegnanti spesso riportano essere bimbi che starebbero delle ore a guardare fuori dalla finestra. Cosa succede? Che in quel momento il bambino, attratto da uno stimolo esterno a ciò che sta facendo, lo segue. Quindi perde l'orientamento del compito, perde l'orientamento rispetto a ciò che stava facendo. La difficoltà specifica quindi è nell'attenzione, ma i bambini con questo disturbo presentano anche maggiori problematiche emotive rispetto agli altri sottotipi di ADHD. Questo perché il bambino, che fa fatica a stare attento, viene spesso richiamato, solo che il bambino non è che non vuole stare attento, ma è come se avesse esaurito le sue energie attentive. Quindi il fatto che venga spesso richiamato, non venga riconosciuto che questa disattenzione è in realtà una caratteristica, una sintomatologia del disturbo, porta il bambino spesso a sentirsi frustrato e porta a manifestare anche spesso sintomi d'ansia oppure un abbassamento anche del tono del tumore. Sono sempre secondo le ricerche i bimbi più timidi e ritirati socialmente rispetto a bimbi con ADHD sottotipo iperattivo o combinato. Questo perché sono bimbi che tendenzialmente stanno un po' nel loro mondo, quindi nel momento in cui bimbi che si distraggono riescono a stare in quel mondo e non hanno la necessità di interagire con gli altri. bimbi. Mentre bambini con ADHD sottotipo iperattivo impulsivo o sottotipo combinato, sono bimbi che vengono descritti come tendenti ad agire prima di pensare, bambini che non aspettano il proprio turno, che cambiano spesso attività, che faticano a rispettare norme o regole sociali. Queste sono proprio le caratteristiche del disturbo, quindi c'è sia questo comportamento iperattivo ma anche una tendenza a cambiare spesso attività senza aver concluso quella precedente. Questi aspetti tra l'altro li si notano molto spesso già alla scuola materna, quindi già dall'asilo le insegnanti riportano, descrivono questi bimbi come bimbi che fanno fatica a finire per esempio un gioco, a finire un disegno, fanno fatica ad ascoltare una lettura di un libro, quindi tendenzialmente passano da un'attività all'altra proprio perché come vi dicevo prima vi è una bassa soglia di eccitazione che compensano ricercando altri stimoli. Quindi in questo sottotipo di ADHD vi è sia una disattenzione che un'iperattività e una tendenza all'impulsività. Le ricerche ci dicono che nel 30% dei casi bimbi con ADHD sottotipo combinato presentano anche soprattutto nella fase pre adolescenziale adolescenziale anche altri disturbi del comportamento come per esempio disturbo oppositivo provocatorio o disturbi della condotta. Entriamo in merito nello specifico della sintomatologia, la disattenzione, come vi ho già anticipato prima, come la si nota? La si nota da una difficoltà del bambino nel rimanere attenti e a lavorare sullo stesso compito per un tempo prolungato, quindi come vi dicevo vi è proprio questa tendenza a cambiare frequentemente attività. Vi è una difficoltà nel mantenere un'attenzione nel tempo, soprattutto durante attività che richiedono uno sforzo cognitivo continuativo, quindi la lettura di un libro, il gioco del puzzle, le lego, tutte attività che richiedono appunto un'attenzione prolungata nel tempo risultano per loro molto difficili. Faccio questa parentesi, durante l'utilizzo di videogiochi piuttosto che di giochi al computer le ricerche ci dicono che essendo queste attività molto motivanti per i bambini, anche per i bambini con ADHD, sono attività in cui questi bimbi riescono a mantenere l'attenzione. Quindi la difficoltà attentiva è molto evidente soprattutto in attività poco motivanti. sempre per quanto riguarda la disattenzione, questa disattenzione la si vede anche nella difficoltà a prestare attenzione ai dettagli, quindi soprattutto nei bimbi che frequentano la scuola primaria spesso vengono segnalati come bimbi che fanno molti errori di distrazioni, mancano magari, mancano delle parti di verifiche, cioè le verifiche sono spesso incomplete, piuttosto che nel diario mancano alcune parti di compito, piuttosto che vengono proprio descritti come bimbi facilmente distraibili, permeabili a simoli esterni. Come vi dicevo le difficoltà aumentano quelle attentive quando l'attività è poco motivante o poco attraente per il bimbo. L'iperattività e l'impulsività invece è spesso evidente quando appunto il bambino presenta questa tendenza a muoversi, questo bisogno proprio di muoversi, perché i bambini poi ti dicono, te lo verbalizzano questo bisogno, dicono proprio mi danno molto fastidio le gambe, ho bisogno di muovermi. Sono bimbi che vengono descritti come se sembrassero mossi da un motorino. Vi è un eccessivo livello di attività motoria, che è appunto questa iperattività, ma vi è un eccessivo livello anche di attività verbale, quindi sono proprio bimbi tendenzialmente iperverbali. Durante le valutazioni non ci si annoia con questi bimbi, proprio perché raccontano un'infinità di cose, però sono bimbi che hanno proprio bisogno di essere contenuti, bimbi, questo in tutti i contesti, quindi anche a scuola e questo può ovviamente presentare un grosso problema sia per i bambini lo stesso, ma anche per l'insegnante. Sono come vi dicevo prima bimbi che hanno molta difficoltà a rimanere seduti e fermi al proprio posto e sono appunto sempre in movimento in tutti i contesti della loro vita. L'impulsività viene vista appunto come una difficoltà a rimandare una risposta, ad inibire un comportamento inappropriato, quindi anche qui sono bimbi che fanno molta fatica a rispettare norme, regole sociali, seppur magari le conoscano anche bene, ma proprio questo impulso li porta a direle a loro quando vogliono, piuttosto che a fare quello che vogliono e quando vogliono appunto, e fanno molta fatica ad attendere una gratificazione. Sono bimbi che necessitano di una gratificazione immediata. Rispondono, tendono a rispondere molto velocemente, quindi molto spesso quando magari gli si pone una domanda, il bimbo con caratteristiche forti di impulsività tende a rispondere ancora prima che la persona abbia finito di fare la domanda. Interrompono frequentemente gli altri, quindi fanno molta fatica anche qui ad inibire un impulso. Sono bimbi che fanno fatica a rispettare anche la fila, qualunque sia a scuola ma anche, non so, al supermercato, e spesso intraprendono azioni pericolose, quindi i genitori riportano che già dalla scuola materna era magari quel bimbo che torna a casa con i vestiti rotti, piuttosto che le ginocchia sbucciate perché si è arrampicato sull'albero, quindi sono bimbi che difficilmente pensano alle conseguenze di ciò che, alle conseguenze di quell'azione, quindi spesso intraprendono appunto delle azioni anche pericolose. L'impulsività è una caratteristica che rimane stabile durante lo sviluppo ed è presente anche negli adulti con ADHD. Questo lo voglio sottolineare perché spesso i genitori mi chiedono come sarà il mio bimbo con ADHD da adulto. Quello che si vede, quello che ci dicono le ricerche è che se la disattenzione e l'iperattività tende poi a ridursi nel corso del tempo, anche perché la persona trova delle compensazioni, l'impulsività invece è effettivamente una caratteristica che tende a permanere. La sintomatologia per poter fare diagnosi di ADHD deve essere presente da almeno sei mesi e in almeno due contesti di vita del bambino. Mi è capitato molto spesso di valutare dei bimbi per un sospetto ADHD ma durante la valutazione della raccolta anamnestica i genitori riportavano che la sintomatologia che poteva essere disattenzione, iperattività, impulsività era presente solo a casa oppure solo a scuola. Quindi questo già non ne ha permesso in alcuni casi di fare diagnosi ma in quel caso si va ad indagare perché quella sintomatologia è presente solo in quel contesto. Quindi nel caso in cui fosse presente solo a casa a quel punto si vanno ad indagare per esempio delle strategie educative o comunque tutto il contesto familiare che può spiegare quella sintomatologia. Se invece è presente solo a scuola molto spesso vi possono essere delle difficoltà negli apprendimenti scolastici che spiegano l'agitazione motore del bambino piuttosto che la tendenza ad essere iperattivo o la facile distraibilità. Queste manifestazioni, questi sintomi, queste difficoltà sempre per poter fare diagnosi devono essere presenti prima dei 12 anni e devono compromettere il funzionamento scolastico e o sociale. Quindi se ci si accorge da genitore o da insegnante che il bambino presenta questa sintomatologia, queste difficoltà, che cosa fare? Il suggerimento è quello di proporre una valutazione neuropsicologica che può essere fatta sia nei servizi pubblici della neuropsichiatria infantile o privatamente tramite neuropsichiatri o psicologi con una formazione in neuropsicologia e la valutazione ha lo scopo di raccogliere informazioni amnestiche sulla storia di vita del bambino e di somministrare i test specifici che vanno ad indagare tutte quelle funzioni neuropsicologiche che risultano compromesse a causa del disturbo. Quindi si utilizzeranno test che valutano il funzionamento cognitivo, l'attenzione in tutte le sue componenti, la memoria verbale visiva, le funzioni esecutive, cioè tutte quelle funzioni che sono regolate da quelle aree cerebrali che risultano compromesse da un punto di vista strutturale o funzionale. Quindi lo scopo della valutazione neuropsicologica qual è? Quella di aiutare il bambino, quindi se dalla valutazione emerge un disturbo di attenzione e iperattività, a scuola il bambino può essere tutelato dalla circolare dei BESS, circolare dai bisogni educativi speciali, che prevede non una modifica degli obiettivi, perché tra l'altro tendenzialmente i bambini con ADHD hanno anche un cognitivo medio alto, quindi non hanno bisogno di una didattica semplificata, ma grazie alla circolare dei BESS si può richiedere una modifica della didattica in termini di tempo. Cosa vuol dire? Si può per esempio richiedere del tempo aggiuntivo durante le verifiche, oppure la riduzione del contenuto, quindi se gli altri bimbi devono, non so, leggere un brano intero, il bambino con ADHD, proprio per le difficoltà che abbiamo appena visto, farà fatica a terminare quel brano, con tutte anche le conseguenze emotive del caso, si potrà per esempio richiedere che il bambino ne faccia meno. Oppure ancora si può richiedere la suddivisione del materiale su più foglie, quindi far sì che sul foglio il bambino abbia meno stimoli rispetto agli altri bambini e questo permette al bambino di distrarsi meno con stimoli irrilevati. Lo scopo poi della valutazione, oltre a quello di richiedere appunto queste modifiche specifiche sulla base di quello che è emerso dai test, un altro scopo è anche quello di indirizzare l'intervento. Le linee guida per l'ADHD suggeriscono un intervento che prevede un percorso psicologico rivolto al bambino, soprattutto nel caso in cui vi siano appunto delle conseguenze emotive o relazionali sociali. Un parent training, quindi un percorso rivolto ai genitori che ha lo scopo di fornire delle strategie educative per gestire i cosiddetti comportamenti problema del bambino e nel caso di ADHD gravi si può anche suggerire un intervento farmacologico che verrà gestito dal medico neuropsichiatra. In più aggiungo anche un percorso di potenziamento di funzioni neuropsicologiche in questo caso di attenzione ma anche memoria perché si è visto che per esempio anche la memoria soprattutto quella uditivo verbale è spesso compromessa nei bimbi che presentano questo disturbo. Quindi lo scopo della valutazione non è solo quella di fare diagnosi ma è quella di capire anche come poter aiutare il bambino ma anche la famiglia quindi i genitori. Alessandra Valentina chiedeva se c'è la possibilità che in bambini con ADHD siano presenti anche dei disturbi del sonno. Sì può essere e questo perché perché sono bimbi che un po' per delle difficoltà sul piano emotivo quindi magari sono bimbi che appunto fanno fatica a sentirsi capaci, si sentono spesso sotto pressione, tornano a casa spesso con delle note, con dei rimproveri quindi possono far fatica anche ad avere un sonno riposante, spesso si svegliano durante la notte e possono soffrire anche di difficoltà di addormentamento e spesso vi è un'altra condizione frequente nei bimbi con ADHD che è quella delle gambe senza riposo quindi la tendenza proprio ad avere un sonno agitato. Poi c'è Licia che ha alzato la mano quindi vediamo se ha una domanda. Sì. Aspetta vediamo. No, forse no. Niente. E chiedono anche se la diagnosi si può fare in età prescolare. Difficilmente nel senso che è vero che i sintomi sono spesso presenti già dalla scuola materna. È vero anche che bisogna lasciare il tempo sia al bambino di sviluppare quelle che sono delle capacità anche di autoregolazione e di sviluppare le stesse funzioni neuropsicologiche quali appunto l'attenzione in particolare. quindi insomma una diagnosi precoce se può essere utile in termini di intervento. Cioè prima io conosco che la sintomatologia o le difficoltà del bambino fanno parte di un disturbo, cioè sono spiegate da un disturbo, prima posso intervenire su queste difficoltà. Quindi come dire migliorare la prognosi ed evitare conseguenze emotive gravi. È vero anche che dal mio punto di vista fare una diagnosi di questo tipo quando il bimbo è ancora così piccolino non è sempre la scelta giusta, ecco. Ok, io intanto vado avanti con le domande, poi vi lascerò anche i nostri contatti nella chat, sia mail che numero di telefono perché visto che ci saranno tante domande e non possiamo rispondere a tutte rimaniamo comunque disponibili e chiedono anche quali sono le comorbidità più diffuse. ADHD e DSA. Non a caso appunto abbiamo proprio pensato di presentare entrambi i disturbi. Come dicevo prima, un bambino che presenta una difficoltà nel permanere su un compito, un bambino che può presentare difficoltà di memoria, soprattutto uditive e verbali, può manifestare anche dei disturbi dell'apprendimento. Può venire prima un disturbo d'attenzione e poi un disturbo dell'apprendimento o viceversa. seppur i disturbi dell'apprendimento, lo vedremo dopo, sono dei disturbi neurobiologici geneticamente determinati. Quindi il bambino nasce con quel disturbo. Chiedono poi se Emily chiede, la diagnosi di ADHD fatta da privato ha valore per il pubblico o per la scuola ad esempio? Sì, questo varia tanto da regione a regione. In Emilia può capitare che la scuola richieda la convalida della diagnosi da parte del servizio pubblico. A quel punto è il professionista privato che invia la diagnosi appunto al servizio di neuropsichiatria che il quale controllerà i test che sono stati somministrati ai relativi dati e convalideranno appunto la diagnosi. Quindi sì. Quali sono i farmaci che vengono utilizzati per il trattamento farmacologico? Allora, la questione dei farmaci è una questione prettamente medica. Quindi è qualcosa di cui non mi occupo, quindi preferisco lasciare a chi è competente rispondere a questa domanda. Ecco, non vorrei addentrarmi. Ok, magari rispondiamo all'ultima, poi continuiamo e poi nel caso le metto insieme. E chiedono, Erika dice, ho letto alcune ricerche che correlano la dipendenza da videogiochi e ADHD. Qual è la sua esperienza in merito? Allora, diciamo che l'utilizzo del videogioco è qualcosa che può iperstimolare il bambino. Ma non in termini di correlazione, nel senso che può aumentare il comportamento iperattivo proprio perché il bambino è iperstimolato. Ma abbiamo visto che durante l'utilizzo del videogioco il bambino, a differenza che in altre attività, riesce a stare su questa attività proprio perché è per lui molto motivante. Quindi se c'è una connessione in termini di più gioco più vorrei giocare. Per me questa cosa è molto motivante, quindi la vorrei sempre di più. Non so se ho risposto... Io intanto raccolgo perché stanno arrivando veramente tante domande. Guardavo solo se Licia che aveva alzato la mano, visto che... No. Ok, perfetto. Direi che puoi continuare, poi io nel caso ti aggiungo delle domande dopo. Sì, aggiungo solo una cosa in relazione ai videogiochi. Essendo un'attività molto motivante in generale per tutti i bambini, quello che io vedo nella pratica clinica è che soprattutto i bambini che hanno appunto questa bassa soglia di eccitazione vanno spesso a ricercare l'utilizzo del videogioco. Quindi il suggerimento che do è proprio quello di costruire una sorta di planning con il bambino, cioè di fissare, magari poi ne parlerai anche tu, insomma di fissare delle regole precise anche sulla durata dell'utilizzo del videogioco. Altrimenti, ma questo in realtà succede poi per tutti i bambini, altrimenti si rischia appunto che più gioco, più rilascio dopamina, più ho bisogno di quel gioco. Quindi questo può diventare, insomma, difficile poi da regolare, da limitare. Quindi meglio dare delle regole ancora prima che il bambino inizi ad utilizzare quel gioco. E volevo anche aggiungere un'altra cosa, poi passo all'altro argomento, in relazione alla domanda di prima dell'ipotetica diagnosi alla scuola materna. Vi dicevo che molto spesso la sintomatologia è presente già alla scuola materna, quindi la disattenzione, l'iperattività, l'impulsività. È vero anche che spesso questi sintomi, o meglio, spesso queste difficoltà possono essere sintomi anche di altri disturbi. Ecco perché viene sempre consigliata una valutazione neuropsicologica anche alla scuola materna quando il bambino presenta queste difficoltà. Cioè non è detto che se c'è una disattenzione, l'iperattività, un'impulsività sia per forza un disturbo d'attenzione. Potrebbe esserci anche dell'altro da un punto di vista, per esempio, cognitivo. Quindi una valutazione è una sorta di fotografia del funzionamento generale del bambino per capire appunto come aiutarlo. Vuoi rispondere a qualche altra domanda già che ci siamo? Dimmi, dimmi pure. Alcuni chiedono appunto in merito al quoziente intellettivo. Cioè chiedono appunto se è possibile, cioè qual è il profilo cognitivo tipico di un bambino ADHD. Sì, allora generalmente sono bimbi con un cognitivo, come dicevo prima, medio-alto. Sono bimbi molto intelligenti. Il profilo generalmente viene buono nelle abilità verbali e deficitario invece in quelle visospaziali. In quanto le aree cerebrali coinvolte nel disturbo d'attenzione sono proprio quelle aree che regolano non solo l'attenzione, ma anche appunto le capacità visospaziali e le funzioni esecutive, quindi la pianificazione. Quindi si può spesso, anzi si vede spesso una discrepanza tra abilità verbali molto buone e abilità invece visospaziali di performance compromessi o comunque non del tutto a norma. Questo è un po' il profilo a livello generale. Ok, poi chiedono un po' durante l'adolescenza, durante poi l'età adulta, com'è il decorso, nel senso se ci sono comportamenti problematici a rischio, dipendenza, disturbi della condotta. Sì, nel 30% dei casi un bambino che ha un ADHD soprattutto sottotipo disattento, iperattivo e impulsivo, quindi o un sottotipo impulsivo e iperattivo o un sottotipo combinato che presenta tutte e tre le sintomatologie, quindi disattenzione, iperattività e impulsività, nel 30% dei casi possono presentare anche un disturbo del comportamento. Quindi quello che si vede è che il bambino può presentare un disturbo oppositivo provocatorio, quindi una tendenza a non rispettare ciò che gli viene chiesto oppure a fare esattamente il contrario, quindi ad essere significativamente provocatorio, oppure quello che si vede è che il bambino sempre sottotipo iperattivo e impulsivo combinato può presentare un disturbo della condotta. Questi sono i due disturbi del comportamento più frequenti nei bimbi con ADHD. Il sottotipo più protetto, diciamo, da un punto di vista di problematiche comportamentali è il sottotipo disattento. Come dicevamo prima, è tendenzialmente il bimbo più ritirato ed è il bimbo meno problematico, ecco, da un punto di vista comportamentale. Gli altri due sottotipi invece spesso presentano più conseguenze appunto comportamentali problematiche. Andrei avanti, poi dopo riprendiamo alcune delle domande. Perfetto. Quindi dicevamo prima, proprio perché frequentemente è presente un disturbo d'attenzione e iperattività e un disturbo specifico dell'apprendimento, vediamo un po' di capire meglio che cos'è, cosa sono questi disturbi dell'apprendimento. Sono dei disturbi neurobiologici geneticamente determinati. Vuol dire che ci sono alcune aree cerebrali specifiche coinvolte in questi disturbi e sono coinvolte nel senso che sono o anatomicamente più piccole oppure presentano delle anomalie nel funzionamento. Cioè la trasmissione delle informazioni tra queste aree funziona in modo anomalo. Sono geneticamente determinate, vuol dire che proprio le ricerche ci riportano a essere dei geni mutati nei bimbi che presentano questi disturbi e per poter fare diagnosi di disturbo dell'apprendimento il bambino deve avere un funzionamento cognitivo pienamente nella norma, quindi un quoziente intellettivo nella norma il quale viene valutato attraverso dei test specifici durante la valutazione neuropsicologica e non ci devono essere patologie neurologiche o sensoriali che coinvolgono vista e udito. Qui vi ho messo alcune delle aree cerebrali coinvolte nei processi di lettura e scrittura e alcune anche delle abilità di calcolo. Quindi ciascuna area ha diverse funzioni neuropsicologiche e qua viene omessa qualcuna e il coinvolgimento di, o meglio la compromissione di alcune di queste aree porta ad un disturbo di lettura, scrittura o calcolo quindi in base a quelle che sono le aree cerebrali coinvolte e compromesse o anatomicamente o da un punto di vista funzionale o entrambe portano ad un determinato tipo di disturbo dell'apprendimento quindi sulla base del deficit funzionale si possono distinguere un disturbo di lettura che prende il nome di dislessia in cui il bambino o risulta significativamente lento nella decodifica, quindi nel processo di lettura rispetto ai bimbi della stessa età o scolarità oppure risulta veloce come gli altri ma commette una quantità di errori superiori rispetto a quelli attesi sempre per età o scolarità un disturbo di scrittura nella componente ortografica che prende il nome di disortografia quindi il bambino commette una quantità di errori ortografici poi vedremo nel dettaglio quali superiori rispetto a quelli attesi sempre per età e scolarità una disgrafia che è sempre un disturbo di scrittura ma nella componente grafo-motoria quindi porterà il bambino a faticare a rispettare per esempio lo spazio grafico quindi lo spazio in cui lui deve scrivere faticherà a rispettare margini e quadretti avrà una qualità del tratto grafico poco regolare a monte può avere anche un'impugnatura non adeguata che spiega poi la difficoltà nel tratto grafico e una discalcolia invece che ha un disturbo dell'abilità di calcolo quindi nelle procedure esecutive, nei calcoli a mente calcoli scritti, nel conteggio regressivo quindi per esempio quando il bambino deve andare dal 50 allo 0 piuttosto che difficoltà anche nelle procedure esecutive nella messa in colonna delle operazioni soprattutto se vi sono delle difficoltà viso-spaziali oppure anche nella scrittura e lettura dei numeri ci sono dei tempi per la diagnosi per quanto riguarda i disturbi dell'apprendimento quindi si può diagnosticare un disturbo di lettura e di scrittura nella componente ortografica quindi dislessia e disortografia dalla fine della seconda elementare non prima e si può diagnosticare una disgrafia e una discalcolia quindi disturbo di scrittura nella componente grafomotoria e disturbo di calcolo dalla fine della terza elementare prima di questi termini cosa possiamo fare? Se ci accorgiamo che il bambino già dalla scuola materna può presentare delle difficoltà specifiche che vedremo nella prossima slide oppure se il bambino presenta una familiarità cioè la presenza all'interno della famiglia di altri soggetti che presentano questi disturbi dell'apprendimento è sempre bene proporre o comunque eseguire una valutazione neuropsicologica quindi già dalla scuola materna possono essere fatti dei test somministrati dei test specifici per valutare i prerequisiti scolastici quindi tutte quelle funzioni neuropsicologiche che vengono richieste poi dalla lettura, dalla scrittura e dal calcolo quindi vengono utilizzate dei test sotto forma di gioco per valutare l'attenzione visiva l'attenzione uditiva la capacità di mantenere l'attenzione nel tempo piuttosto che la memoria verbale la memoria visiva la capacità di discriminare delle immagini simili piuttosto che dei suoni simili si valutano le abilità grafo-motore quindi tutti i prerequisiti scolastici questo perché? perché un'individuazione precoce di determinate difficoltà ci permette di intervenire tempestivamente qua sottolineo questa cosa tutti i potenziamenti che possono essere fatti su determinate funzioni neuropsicologiche come quelle che abbiamo appena visto non hanno lo scopo di far sì che il bambino non manifesti poi il disturbo perché essendo un disturbo neurobiologico geneticamente determinato il disturbo si presenterà lo stesso ma il potenziamento farà sì che la prognosi sia più favorevole quindi che la gravità del disturbo sia ridotta quindi la valutazione ha proprio questo la valutazione precoce ha proprio questo scopo vi sono dei fattori di rischio prima vi dicevo la familiarità quindi la presenza all'interno della famiglia di altri soggetti con disturbo dell'apprendimento oppure un disturbo del linguaggio soprattutto se questo disturbo si protrae oltre i quattro anni quindi se sono presenti queste due caratteristiche questi due fattori di rischio anche solo uno dei due il bambino ha una probabilità maggiore di sviluppare un disturbo dell'apprendimento vi sono però anche dei campanelli d'allarme cioè delle difficoltà che molto spesso le ricerche hanno sottolineato come essere presenti già alla scuola materna nei bimbi che poi sviluppano un disturbo dell'apprendimento quali sono questi campanelli d'allarme ritardi o incertezze nel metalinguaggio cioè il bambino magari l'ultimo anno della materna fa molta fatica nel manipolare i suoni di alcune parole quindi per esempio fanno fatica nel giocare con le rime fanno fatica a riconoscere il suono iniziale o finale di una parola oppure fanno molta fatica e sono molto lenti nell'attenzione selettiva o nella ricerca visiva quindi in tutti quei giochi in cui devono trovare delle immagini simili o diverse oppure giochi in cui devono colorare alcune parti in cui sono presenti solo alcune parti in cui sono presenti dei puntini quindi quando si tratta di ricercare visivamente degli stimoli i bambini riescono ma sono molto molto lenti questo in particolare è per esempio una difficoltà proprio specifica e frequentemente presenti nei bimbi che poi sviluppano un disturbo di lettura oppure anche sono molto lenti nella denominazione di immagini quindi quando si tratta di dargli di fornire al bimbo delle immagini e gli si chiede di denominare quindi di recuperare il nome di quell'immagine i bimbi che poi presenteranno un disturbo dell'apprendimento si è visto essere molto lenti nel denominare appunto la figura e questo è per esempio un gioco che può essere fatto in quanto analogo alla denominazione delle lettere vi sono ulteriori segnali precoci che spesso sono già evidenti alla scuola materna e ve li elenco spesso il bimbo fatica nella scusate confonde la sinistra con la destra piuttosto che fatica nel mantenere per breve tempo delle informazioni o ad elaborare delle informazioni a giocare con queste informazioni fanno fatica a memorizzare delle informazioni in sequenza e a recuperarle quindi sono bimbi che faticano a recuperare per esempio i giorni della settimana i mesi dell'anno le stagioni faticano nella lettura dell'orologio proprio per delle difficoltà specifiche viso-spaziali oppure ancora faticano in compiti motori fini per esempio farsi in nodo con le stringhe piuttosto che allacciarsi i bottoni oppure anche faticano spesso nella coordinazione grosso-motoria come per esempio la corsa piuttosto che andare con la bicicletta altre difficoltà in termini di segnali precoci sono anche difficoltà di pianificazione o di orientamento spazio-temporale quindi sono bimbi che faticano molto anche nell'utilizzare concetti temporali quali per esempio prima, dopo, durante quindi anche quando ti riportano per esempio quello che è accaduto a scuola fanno molta confusione nel racconto oppure faticano anche nell'utilizzare concetti temporali scusate, spaziali come sopra, sotto, sinistra, destra oppure dentro, fuori quando poi il bambino arriva alla scuola primaria quindi entra alle elementari già dalla fine della prima elementare possono presentare delle difficoltà specifiche che sono poi gli errori spesso poi sono gli errori tipici dei bambini che hanno un disturbo dell'apprendimento e quali sono gli errori caratteristici in lettura spesso vi sono delle omissioni o delle sostituzioni o delle inversioni di fonemi vuol dire che nella lettura nella lettura il bambino non legge o mette una lettera piuttosto che sostituisce un suono con un altro oppure ancora inverte dei fonemi spesso vi è una lettura casuale della parte finale della parola vi è una lettura poco fluente è proprio una lettura stentata sentite che è molto difficoltosa come lettura e vi sono spesso anche delle difficoltà visospaziali quindi molto frequentemente il bambino magari salta una parte della riga oppure salta una parte del brano la comprensione ho messo due punti di domanda perché non esiste un disturbo di comprensione anche se molto spesso si è visto che bambini che hanno un disturbo di lettura possono presentare anche una difficoltà specifica nel comprendere ciò che leggono quindi è come se ciò che leggono non passa nella via semantica che è appunto la via della comprensione vi presento qui un test specifico uno dei test specifici che viene somministrato ai bimbi che arrivano in valutazione con un sospetto disturbo dell'apprendimento questo test specifico è stato somministrato da una bimba di quarta elementare che poi dai test è emerso avere un disturbo di lettura ma anche di scrittura e di calcolo quindi un disturbo misso dagli apprendimenti scolastici vi faccio sentire giusto le prime due righe per far sì che vi rendete conto di come proprio siano presenti sia gli errori che abbiamo visto poco fa quindi omissioni piuttosto che inversioni di alcune lettere ma per far sì che sentiate anche come effettivamente sia una lettura molto ostentata molto difficoltosa ecco finalmente questa sera la mia fortuna pensò l'uomo de de fo recarmi in qual'isola catturare uno di questi esseri con un occhio solo portarmelo dietro e me ok quindi avete sentito come la lettura effettivamente sia molto difficoltosa una bimba di fine quarta quarta elementare e siano presenti come dicevo prima molti degli errori tipici dei bimbi che presentano appunto una una dislessia in scrittura gli errori caratteristici tipici quali sono vi possono essere errori fonologici quindi anche in questo caso spesso non vengono scritte alcune lettere oppure vi è l'aggiunta cioè vengono scritte lettere che non ci dovrebbero essere oppure ancora vi sono delle inversioni quindi alcune lettere vengono scritte prima di altre vi possono essere errori non fonologici quindi errori nella rappresentazione ortografica visiva e sono i classici errori ortografici in cui quelli criteriali sono l'omissione frequente dell'atta piuttosto che delle separazioni o delle fusioni illegali cioè parole che andrebbero scritte separate che vengono invece scritte insieme o viceversa oppure parole omofone errori con le parole omofone non omografe quindi parole che si pronunciano allo stesso modo ma che si scrivono diversamente vi sono poi anche errori altri specifici quali per esempio errori con gli accenti o quelle doppie qui vi ho riportato uno dei test che vengono dei test che vengono utilizzati in caso di sospetti di esortografia è un dettato di brano questo è sempre uno dei test che sono stati somministrati alla bambina che avete appena sentito leggere e cosa si valutano si valuta la quantità di errori commessi che viene poi confrontata con quell'attesa per scolarità quindi in questo brano specifico a fine quarta sono attesi sei errori gli errori invece commessi dalla bimba da questa bimba sono stati 42 quindi il punteggio emerso è significativamente è significativamente clinico quindi assieme agli altri test che sono stati utilizzati per valutare la scrittura in cui sono sempre emersi i punteggi clinici ci ha fatto appunto orientare verso un disturbo di scrittura questo invece è un esempio di scritto di un bimbo con una disgrafia in cui vedete che il bimbo stesso fatica a rispettare il quadretto quindi ha delle difficoltà specifiche viso-spaziali non è una disgrafia grave perché comunque bene o male sì non sta nel quadretto ma riesce a rispettare abbastanza lo spazio grafico generale vi è però poco controllo del tratto grafico e vedete che è difficilmente comunque comprensibile ciò che legge come vi dicevo prima per poter parlare di disgrafia non ci deve essere solo una cattiva calligrafia non buona calligrafia ma ci devono essere proprio una serie di segnali specifici quali appunto difficoltà nel rispettare lo spazio grafico vi è spesso un'insalata di codici quindi spesso il bambino può scrivere grafemi grafemi magari alcuni scritti in stampato maiuscolo poi nella stessa parola grafemi scritti in stampato minuscolo o in corsivo quindi c'è proprio questa insalata di codici e di base vi dicevo spesso bianco un'impugnatura non corretta che non facilita l'esecuzione di un tratto grafico regolare in matematica non sto a ripetere perché insomma ve l'ho già detto prima tendenzialmente anzi tendenzialmente gli errori tipici sono proprio quelli nelle procedure esecutive e di calcolo spesso la bambina o il bambino fatica nel conteggio regressivo nel recupero delle tabelline nei calcoli veloci e spesso anche in lettura e in scrittura qui vi ho riportato solo una delle prove che vengono utilizzate per valutare il sospetto di scalculia e è sempre la stessa bimba di prima in questa prova si valuta sia la velocità che la curatezza perché per poter parare di discalculia il bambino può essere o significativamente lento nel calcolo oppure può essere veloce come gli altri ma commettere una quantità di errori significativamente superiori in questa prova specifica fine quarta gli errori attesi sono uno invece la bimba quando è commessi cinque quindi una quantità di errori superiori rispetto a quelli attesi e il tempo totale atteso in questa prova in quella scolarità è di 52 secondi la bimba invece ha impiegato 110 secondi quindi risultata sia poco accurata che significativamente lenta quindi se sono presenti fattori di rischio piuttosto che segnali d'allarme o segnali precoci o campanelli d'allarme che cosa fare? è consigliata una valutazione neuropsicologica vi ripeto anche alla scuola materna in cui verranno somministrate dei test specifici per valutare il funzionamento cognitivo funzionamento neuropsicologico e ovviamente test di lettura scrittura e calcolo nel caso in cui dalla valutazione risultassero dei disturbi dell'apprendimento vi è una legge che è la legge 170 dal 2010 che tutela di indico questi disturbi quindi il professionista che ha visto il limbo rilascerà una relazione clinica con tutte le indicazioni specifiche per far sì che gli insegnanti possano stendere un piano didattico personalizzato in questo piano didattico si andranno a richiedere a suggerire l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative quindi strumenti compensativi quali il computer con il correttore ortografico per esempio se vi è una disortografia piuttosto che di audiolibro se vi è un disturbo di lettura le tavole pitagoriche o la calcolatrice se vi è un disturbo di calcolo e delle misure dispensative cioè che cosa può non fare il bambino in quanto gli sarebbe troppo difficoltoso farlo a causa del disturbo quindi per esempio gli si può concedere del tempo aggiuntivo bimbi con DSA hanno per legge il 30% del tempo in più rispetto agli altri bimbi nello svolgimento delle prove o delle attività o dei compiti che risulterebbero appunto difficili a causa del disturbo stesso piuttosto che una riduzione del contenuto in alcune verifiche o anche nei compiti per causa in termini di interventi ciò che viene consigliato può essere un intervento psicologico se vi sono delle difficoltà delle conseguenze sul piano emotivo un intervento logopedico che mira a potenziare le funzioni specifiche di lettura scrittura o calcolo che sono risultate compromesse a causa del disturbo e un intervento neuropsicologico se si vuole andare a potenziare alcune funzioni specifiche quali l'attenzione piuttosto che la memoria che possono risultare deficitarie nei bimbi che appunto presentano questi disturbi ok lasciamo un attimo di spazio per le domande innanzitutto vi ringrazio perché siete numerosissimi e nonostante l'orario e la stanchezza state veramente partecipanti in molti ci dispiace se non riusciremo a rispondere veramente a tutte le domande ripeto che nell'eventualità se vedete che non rispondiamo potete utilizzare appunto la nostra mail e quindi insomma ne sviscero qualcuna per Alessandra e chiedono ad esempio quale deve essere il quoziente intellettivo per poter escludere che si tratti di un ritardo cognitivo allora il ritardo cognitivo ha un quoziente intellettivo che parte dal 70 e va in giù quindi un quoziente nella norma è un quoziente che va da 85 a 115 da 85 a 70 indica un funzionamento intellettivo limite da 70 in giù invece indica una disabilità cognitiva un disturbo dell'apprendimento per poter essere diagnosticato prevede che il quoziente intellettivo sia nella norma quindi che vada da 85 a 115 perfetto Eva invece chiedeva qual è il ruolo della working memory nel supportare lo sviluppo di queste capacità quali capacità secondo me intendeva quando nella prima parte spiegavi se vuoi tornare nelle prime slide sì aspetta sì avevamo delle funzioni esatto dell'attenzione visiva uditiva memoria uditivo verbale scusa ma tutte le capacità ma allora in generale la memoria a brevi termini supporta molte funzioni molte attività scusate molte attività che il bambino svolge sia a scuola che a casa quindi la capacità di manipolare per breve tempo delle informazioni è un'abilità che è richiesta sia dalle abilità sia dalle scusate sia dalle attività di lettura che di scrittura che di calcolo quindi molto spesso si è visto che i bambini che hanno disturbo degli apprendimenti hanno anche una compromissione di questa funzione specifica quindi Sara chiedeva se questa difficoltà nell'uso dei concetti temporali possa evidenziarsi in età adulta in una memoria episodica un po' grossolana in cui ad esempio i ricordi vengono spesso confusi o mal collocati nel tempo oddio puoi ripetere è una domanda un po' lunga quindi se la difficoltà nell'uso dei concetti temporali tipico dei DSA in età adulta può sfociare in memoria episodica un po' grossolana quindi ad esempio avere dei ricordi un po' confusi o mal collocati nel tempo no quando si parla proprio di difficoltà di orientamento spazio temporale tipica dei bambini che presentano poi questo tipo di disturbo si fa riferimento alla difficoltà nel manipolare proprio concetti di tempo o di spazio ok poi magari facciamo le ultime due domande chiedono come si può aiutare un genitore che ha difficoltà ad accettare l'idea di valutazione come si fa ad accettare scusa come si può aiutare un genitore che ha difficoltà ad accettare l'idea di valutazione quindi come si può aiutare nel sostenere un genitore è una buona domanda perché effettivamente molto spesso non vengono fatte valutazioni quando magari servirebbero perché il genitore effettivamente ha paura di affrontare questo percorso allora la valutazione ha proprio l'obiettivo di aiutare il bambino quindi la cosa migliore è quella di vedere la valutazione non tanto in termini di di diagnosi cioè la valutazione non serve solo per fare diagnosi ma serve per fare una fotografia del funzionamento generale del bimbo per capire come aiutarlo quindi l'ottica lo scopo è proprio questo l'aiuto al bimbo e alla famiglia stessa durante la valutazione vengono somministrati sì dei test ma io lo dico sempre i genitori sono dei giochi inoltre il clima è veramente quello di un gioco non c'è giudizio io lo spiego sempre ai bimbi qua puoi anche sbagliare non c'è voto quindi è molto importante che il bimbo si senta il più sereno possibile nell'affrontare anche questo percorso ecco un po' questo mi chiedevano un po' quali sono i test che vengono usati per la valutazione per i VSA esatto sì i test che vengono utilizzati dunque per il funzionamento cognitivo quindi per valutare il cosiddetto intellettivo viene utilizzata la WISH Vexler sono delle scale Vexler che mirano proprio ad avere un funzionamento scusate una fotografia del funzionamento cognitivo quindi il cosiddetto intellettivo per il profilo neuropsicologico vengono utilizzati un sacco di test che non so nominare uno a uno il test delle campanelle per l'attenzione la memoria di cifre per valutare la memoria appunto a breve termine verbale il test tratti dalla batteria tema per valutare il ricordo di informazioni verbali a lungo termine la figura direi per valutare le funzioni esecutive quindi tanti test diversi per avere una fotografia del funzionamento neuropsicologico invece per i test di lettura e scrittura e calcolo vengono utilizzati anche per batterie specifiche quali per esempio le MT per la lettura piuttosto che la batteria CMT per la matematica la DDE2 per per la lettura e anche per la scrittura quindi sono molti molti test specifici ecco comunque sono state estilate delle linee guida nella quale sono indicati quali test utilizzare quindi una psicologa che ha una formazione in neuropsicologia e una formazione sui DSA sa quali test utilizzare e utilizza quelli perfetto io direi magari di passare alla parte sugli aspetti emotivi visto l'orario intanto magari Alessandra se vuoi andare a recuperare qualche domanda nell'eventualità in cui alla fine ci sia ancora un po' di tempo possiamo riprenderle sì intanto allora io esco dalla mia presentazione intanto così riesci ad entrare tu esatto allora perfetto allora per quanto riguarda gli aspetti emotivi un po' alcune cose sono già state dette da Alessandra e sono i DSA e gli ADHD tendenzialmente hanno delle difficoltà emotive delle difficoltà relazionali che fanno sì che insomma si differenzino rispetto a bambini senza le loro difficoltà e perché è importante occuparsi delle emozioni e quindi focalizzarsi anche su questo aspetto al di là della valutazione della diagnosi è perché ovviamente l'apprendimento quindi tutto anche l'aspetto scolastico ovviamente condizionato influenzato dalle condizioni emotive dei bambini e sia gli ADHD che i DSA tendono ad avere delle difficoltà di autoregolazione emotiva se prendiamo ad esempio l'ADHD ovviamente ha difficoltà a regolare le proprie azioni a regolare i propri comportamenti ma proprio anche la parte emotiva e le emozioni inoltre influenzano tutte le relazioni interpersonali quindi come io mi relaziono con i miei coetanei come io mi relaziono con la mia famiglia con gli adulti di riferimento che possono essere le maestre i professori e le reazioni emotive più frequenti che adesso andremo a vedere poi diventano anche modalità di risposta abituale quindi vanno a rinforzarsi e un po' come un circolo vizioso che si autoalimenta quindi è importante appunto focalizzarsi sulle emozioni e nell'eventualità in cui ci troviamo davanti a un bambino con disturbo dell'apprendimento un bambino ADHD è importante anche magari fare un pezzetto proprio sull'aspetto emotivo perché ovviamente lavorare sulle emozioni comporta poi un miglioramento proprio del benessere psicofisico del bambino cosa dicono di loro allora la parte che farò io appunto ho maggior ragione per l'orario non sarà tanto teorica quanto ho voluto far sì che fosse il più esperienziale possibile perché credo che sia una risorsa un arricchimento in più rispetto magari a cose che si possono trovare su internet o a cose che si possono trovare sui libri è fondamentale soffermarsi su cosa dicono gli insegnanti coetanei i genitori di questi ragazzini perché ciò che dicono di loro ovviamente poi va a influenzare cosa loro stessi poi pensano a volte si sente a dire appunto che non stanno mai attenti che non si impegnano che quindi se volessero raggiungere dei risultati di un certo tipo basterebbe l'impegno e la volontà quindi gli manca solo la voglia fanno solo ciò che piace a loro cercano di attirare l'attenzione disturbano e rallentano le lezioni sono dispettosi quindi c'è quasi un aspetto come se fosse proprio voluto una volontarietà nei loro gesti a volte c'è anche una colpevolizzazione dei genitori sono così perché evidentemente i genitori non li seguono a sufficienza ma a volte c'è proprio anche invece una colpevolizzazione anche degli insegnanti evidentemente sto sbagliando qualcosa nella mia modalità educativa nella mia modalità di insegnamento e questo modo di insegnare non fa sì che lui si concentri o che sia motivato ad ascoltare durante la lezione e si distrae continuamente non riesce a stare concentrato con i suoi compagni quindi un po' il confronto in perdita a cui sono abituati poi questi bambini e mi fa sempre perdere la pazienza queste sono un po' delle convinzioni errone che tendenzialmente si portano avanti anche nel nel vissuto con questi bambini e sono convinzioni che purtroppo però portano a dei pregiudizi e che di conseguenza come proprio in virtù del pregiudizio io etichetto il bambino e non vado a vedere invece quello che c'è sotto che invece mi dice molto altro e cose diverse rispetto a quello che effettivamente in apparenza questi bambini tendono a trasmetterci tant'è che cosa si dicono di loro stessi si dicono appunto tutt'altro cioè quello che noi vediamo come mancanza di voglia come dispetto provocazione in verità sotto a tutt'altro vorrei essere come i miei amici quindi c'è bisogno anche di essere come gli altri ma un vissuto di diversità ed esclusione ha ragione la maestra quando dice che sono un asino non capisco niente gli altri sono migliori di me quindi sempre questo confronto questi sono un po' frasi che io nella mia esperienza ho vissuto nel confronto con questi bambini quando si va sotto effettivamente ci sono tutti dei pensieri disfunzionali che questi bimbi coltivano e che effettivamente poi non li aiutano a stare bene ho la testa che non funziona mi piacerebbe anche solo per una volta essere bravo come gli altri odio la scuola e le maestre cosa mi impegno a fare tanto faccio sempre schifo deludo sempre mamma e papà quando studio mi stanco più di una partita di calcio quindi anche tutto questo aspetto di fatica e di stress nello studio ho cercato in questo slide di andare un po' a vedere gli aspetti comuni che ci sono nella DHD e nel DSA come vedete le emozioni sono tantissime nel senso che effettivamente se andiamo a sviscerare probabilmente hanno oltre a queste c'è anche l'emozione di vergogna l'imbarazzo a volte c'è anche l'emozione di gelosia quindi io ho voluto mettere un po' quelle principali ma è inevitabile che poi ci siano anche altre emozioni la frustrazione quella su cui mi vorrei soffermare in primis perché la si vede spesso in questi bambini a volte la si vede proprio un po' come l'immagine come esso quando sono a casa e che cercano di studiare si mettono le mani nei capelli in preda alla disperazione perché spesso c'è questa convinzione in loro di essere inadeguati e incapaci quindi sia nell'ambito scolastico sia nell'ambito familiare sono bambini che effettivamente facendo fatica avendo spesso dovendosi spesso confrontare con degli insuccessi tendono effettivamente a raggiungere un livello di frustrazione che ai loro occhi diventa insopportabile inoltre un fattore di frustrazione proprio i problemi nelle relazioni sociali sono bambini che tendenzialmente sono un po' esclusi o si auto escludono come meccanismo di difesa e lo vedremo dopo oppure vengono esclusi perché visti un po' come diversi un po' come disturbatori un po' come strani e quindi tendono a essere messi un po' in disparte e e poi c'è tutta una parte di continue sollecitudini da parte degli insegnanti da parte dei genitori stai attento impegnati di più ma perché fai così che porta a questo carico emotivo di stress molto intenso ho messo una frase di Tom Cruz che mi faceva molto piacere riportare perché comunque lui è una DHD e dice mi chiedevo se fosse una persona normale o un idiota stavo cercando di concentrarmi perché da parte loro c'è una volontà di impegnarsi di dimostrare all'adulto e ai coetanei che anche loro sono capaci ma come poi riporta lui non ho potuto ho provato disagio frustrazione noia a volte infatti l'effetto della frustrazione è proprio la noia perché io mi disimpegno come ho messo nei due tipi di reazioni io mi disimpegno non faccio più nulla mi disinteresso come appunto meccanismo di difesa perché se io mi disinteresso se io non mi impegno a scuola e a scuola poi vado male posso trovare anche una scusante vedi ma non mi sono impegnata è normale che io non abbia raggiunto i risultati sperati i risultati positivi quindi dicevo meccanismo di difesa perché è un po' come se io volutamente non raggiungessi quel tipo di risultato dall'altro lato appunto questo permette di evitare di fare brutte figure davanti ai compagni cioè allora a quel punto potenzialmente potrei diventare anche un bulletto ah sì sono io che non mi impegno e il rischio di evitare di essere deriso e giudicato come incapace perché se appunto è una mia volontà sono io che decido di conseguenza il motivo per cui poi l'insegnante mi dà la nota l'insegnante mi dà il brutto voto è tutta una cosa che è voluta da me l'altro tipo di reazione alla frustrazione è l'attacco perché a volte mettono in atto comportamenti aggressivi sia i DSA che e l'ADHD non soltanto l'ADHD a volte anche i DSA diventano un po' aggressivi nel tipo di risposta alla frustrazione ma questo lo fanno proprio per evitare di sentire il disagio come vedremo in un secondo momento quando toccheremo l'emozione della rabbia cioè spesso effettivamente la rabbia è proprio un'emozione protettiva che va a cercare di attenuare quella tristezza quel disagio quella sofferenza l'ansia è un'altra emozione comune entrambi disturbi perché l'ansia da prestazione è spesso anche anticipatoria a volte sono bambini che fanno fatica a separarsi dai genitori per andare a scuola hanno questo malessere anche nel prepararsi sono bambini che a volte ci mettono molto più tempo del dovuto nel vestirsi nel fare colazione perché hanno questa paura della scuola perché sanno che a scuola più che andare in un contesto piacevole sarà come andare un po' in guerra per loro perché dovranno combattere per farsi apprezzare sia dall'adulto che dai coetanei e l'ansia poi porta all'evitamento del confronto come dicevo prima sono bimbi che magari tendono ad essere ritirati perché così se io non mi confronto con gli altri non vado a toccare quella frustrazione quella tristezza che mi fa soffrire particolarmente a volte evitano il compito questo evitamento del compito cioè non faccio quello che mi chiede la maestra oppure quello che mi chiedono i genitori quindi la mamma mi dice metti a posto la camera magari io evito di farlo perché poi so che probabilmente farei più casino che altro la maestra mi dice viene alla lavagna a fare questa operazione di matematica io mi rifiuto e a volte infatti viene scambiata per pigrizia un bambino pigro non lo fa perché non ha voglia e quindi come ho riportato anche in questo in questa breve citazione sono lenta come una tartaruga così dico che non voglio giocare per paura di essere presa in giro rispetto agli altri mi sento diversa non mi sento a mio agio ho delle paure nella pancia come se dentro ci fosse un vulcano quindi il fatto sempre del confronto se evito di confrontarmi se evito di giocare eviterò di far vedere delle debolezze agli altri così gli altri magari diranno che sono asociale e che preferisco stare da sola ma magari non toccheranno invece delle credenze che io credo avere come l'essere stupida l'essere lenta l'essere diversa e queste emozioni molto potenti e per quanto riguarda la tristezza troviamo questo senso di inferiorità quindi gli altri come dicevo come abbiamo visto prima anche nelle frasi che si dicono gli altri sono migliori di me gli altri sono più adeguati di me quindi questo senso di inadeguatezza una chiusura vissuti di sfiducia non si fidano delle loro capacità quindi anche quando tendenzialmente con tutti quegli strumenti compensativi ad esempio nel lavoro nella mia esperienza io lavoro molto con gli strumenti compensativi le mappe concettuali ad esempio con i DSA e lavoro proprio cercando di dare uno strumento di fiducia perché quello è uno strumento che loro possono utilizzare in classe con le maestre però a volte c'è proprio l'idea che anche con quello strumento farò fatica ad affermarmi agli occhi degli altri quindi a volte proprio non hanno fiducia di loro stesse anche quando si cerca di dare strumenti proprio perché è una tristezza una sfiducia molto radicata quella che è loro la bassa autostima sulla bassa autostima mi vorrei focalizzare un attimo perché effettivamente sono l'autostima nei bambini scolari ovviamente è molto focalizzata sul sull'ambito scolastico e che cos'è l'autostima l'autostima è proprio il confronto tra il sé percepito e il sé ideale il sé percepito è tutto quel rimando che io ho dagli insegnanti dai coetanei da tutte le persone con cui io vado ad interagire ed è il sé percepito sono quelle competenze quelle caratteristiche che io penso di avere dall'altra parte il sé ideale invece è l'immagine ciò che io vorrei essere e come potete ben immaginare ovviamente l'immagine che i DSA e gli ADHD percepiscono di loro dal rimando che hanno da parte degli altri e dal rimando che hanno di loro stessi è molto negativo ed è incompleta è completamente lontano da quello che è il loro sé ideale cioè essere uguali agli altri cioè il loro sé ideale è vorrei essere come il mio compagno di classe competente se io mi do una lettura di me come totalmente competente e vedo che anche da parte dell'adulto c'è questo rinforzo perché non non capisce che queste mie difficoltà sono dovute a un disturbo di un certo tipo eccetera eccetera ovviamente io avrò una bassa autostima perché ci sarà una discrepanza elevatissima tra il sé ideale il sé percepito e poi avranno questa convinzione di essere poco intelligente se io sono convinto di essere poco intelligente è inevitabile che io toccherò un'emozione di tristezza e come dicevo prima hanno un comportamento ritirato tendono a nascondersi sono quelli che un po' anche prima mi ero appuntata quando parlava Alessandra del sottotipo disattento che diceva sono i timidi ritirati proprio l'ADHD che si ritira questa timidezza è dettata da anche una bassa autostima una sfiducia delle proprie capacità quindi fallimenti e insuccessi scolastici ripetuti il rapporto compromesso tra pari quindi il confronto impari di cui parlavo prima il senso di impotenza cioè non riesco a fare niente non posso fare niente non ho le capacità per dimostrare agli altri il mio valore contribuiscono ad abbassare la percezione positiva di se stessi quindi inevitabilmente avremo dei danni all'autostima effettivamente infatti anche nel lavoro che io faccio a volte nelle percorsi di sostegno all'utilizzo degli strumenti compensativi si lavora molto sull'aspetto emotivo perché c'è sempre un rimando chiedo una volta di sostituirsi di far sì che tu sostituisca loro nella risposta perché hanno paura anche davanti a un adulto che non sia l'insegnante ma hanno paura di sbagliare paura dell'errore quindi anche lì è una parte molto importante spiegare anche a questi bambini quanto gli errori siano umani che tutti siamo tutti abbiamo fatto errori nella nostra vita perché hanno proprio questa paura e tendono a chiedere di dare delle risposte per proprio paura di dimostrarsi incapaci la rabbia e l'irritabilità la rabbia non è rivolta soltanto verso di sé quindi sono scemo ma la troviamo rivolta oltre a verso di sé verso i compagni e verso gli adulti di riferimento a volte proprio come dicevo prima essendo la rabbia un po' io faccio sempre con i bambini il disegno del vulcano cioè la rabbia è un po' la lava quella che esce fuori che vogliono far vedere agli altri perché li protegge da altri tipi di emozioni quindi se io mi arrabbio con un bambino penso anche di dare un'immagine di me più forte rispetto a quelle emozioni che invece sono sotto nel vulcano che sono magari la tristezza l'ansia la frustrazione tutta quella parte di sofferenza e quindi a volte hanno questi scoppi di rabbia scoppi di ira proprio per tutelarsi credono di di evitare così di far toccare agli altri emozioni che anche loro fanno fatica a elaborare è uguale con gli adulti di riferimento li odiano mi capiscono ma non solo verso quindi verso di sé i compagni gli adulti di riferimento ma proprio anche verso il mondo a volte c'è questa idea del perché proprio a me perché proprio io nella misura in cui ad esempio si parla con i bambini dopo che si fa la valutazione e visto che è un passo importante anche spiegare la diagnosi che siano bambini delle elementari che siano bambini delle medie è sempre importante questo pezzetto perché li aiuta anche ad essere consapevoli comprendere i motivi per cui hanno determinate difficoltà e nella misura in cui appunto si fa questa parte di valutazione quindi bisogna questa parte di restituzione veramente importante anche le parole che si utilizzano perché effettivamente tendenzialmente dopo può esserci questa rabbia del perché proprio a me cioè come mai tutti gli altri bambini in classe sono normali che io che già magari faccio schifo a judo oltre a fare schifo a judo adesso anche a scuola c'è proprio quest'idea che capitano tutte a loro e quindi ripeto è molto importante anche proprio quando si fa sia che sia il genitore sia che sia un professionista si fa la parte di restituzione visto che questa si vede molto questa parte di rabbia cercare di usare delle parole di un certo tipo che siano però oggettive quindi non mascherare anche perché a volte dire ad esempio a un DSA che ha un disturbo dell'apprendimento che ci sono però delle risorse degli strumenti che si possano utilizzare come io faccio sempre l'esempio degli occhiali da vista cioè se io sono miope metto le lenti a contatto gli occhiali da vista e così se ho delle difficoltà dell'apprendimento posso utilizzare il computer le mappe concettuali eccetera eccetera a volte troviamo un atteggiamento come atteggiamento da bullo come meccanismo di difesa cioè quindi divento un po' aggressivo faccio il bullo per difendermi altre volte invece sono vittima di bullismo perché rispetto a quello che dicevo prima quando parlavo dell'emozione della tristezza a volte sono bambini ritirati e si auto escludono non vengono magari esclusi dagli altri ma auto escludendosi ovviamente si fanno delle inamicizie involontariamente quindi il loro comportamento viene letto dagli altri come ah guarda quello che se ne sta sempre per i fatti suoi e vanno lì ovviamente a disturbarlo perché lo vedono come un bambino isolato che potrebbe essere in preda ai loro scherzi alle loro insomma quindi vittima di bullismo oppure troviamo opposizione autoritarismo prepotente a volte sono bimbi molto prepotenti infatti a volte i genitori sono proprio affaticati perché in casa nonostante cerchino anche di insegnare le regole o di fare richieste ai bambini con toni calmi e tranquilli a volte si sentono sbranati da questi bambini che nella misura in cui non vogliono fare una cosa quindi li inondano con emozioni molto negative comportamenti aggressivi di cui ho parlato prima quando parlavo degli effetti della frustrazione poi a volte sono bimbi molto testoni testarvi ostinati quindi magari cerchi di dargli una mano la prima risposta iniziale visto che hanno l'idea proprio che nessuno li capisca tendono invece a dire no no faccio tutto da solo e quando tu dici ma no dai magari posso provare a aiutarti no 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 non ho bisogno di niente non ho bisogno di aiuto e infatti a volte anche questa loro testardaggine poi porta effettivamente a un peggioramento dell'aspetto emotivo perché essendo testardi fanno poi fatica anche a ad aprirsi alla riflessione su quelle che sono le emozioni i loro vissuti infine le somatizzazioni ho voluto mettere le somatizzazioni anche se ovviamente la somatizzazione non è un'emozione ma è una risposta a delle emozioni è una reazione appunto allo stress le somatizzazioni ad esempio la troviamo con mal di pancia tosse nervosa mal di testa sono difficilissime da discriminare da differenziare perché se arriva da me una bimba e mi dice mamma mamma ho mal di pancia è inevitabile che io non la collego subito allo stress ma magari forse hai mangiato qualcosa che ti ha fatto stare male vai un po' sul divano magari puliviamo una medicina insomma la leghiamo a qualcosa legato magari all'alimentazione a qualcosa più di fisico invece magari sotto c'è qualcosa che è più legato a livello emotivo le somatizzazioni a volte sono una risposta appunto che viene magari nella misura in cui anche poi nell'adulto non ascolto i miei pensieri non ascolto quello che mi dice la mia mente e arriva al mio corpo a darmi un campanello un segnale d'allarme mi dice no così non sta funzionando io ho avuto un bambino appunto che aveva la tosse nervosa e stranamente questa tosse nervosa c'era soltanto durante l'orario scolastico oppure nella misura in cui al pomeriggio ci mettevamo insieme a fare tutta la parte dei compiti quindi era inevitabile che era più legata all'aspetto prestazionale all'aspetto era ansia da prestazione che si si palesava a livello fisico ho riportato questa frase che si trova in questo libro che è molto carino proprio una lettura semplice per i genitori dove parla dove Fabio parla di questo Fabio e dice a un certo punto Fabio ha cominciato a perdere qualche ciocca di capelli il pediatra ha parlato di stress e i genitori si sono molto preoccupati perché effettivamente a volte anche lì perde capelli a volte è difficile dire ok forse la perdita di capelli è dovuta a uno stress a una risposta a una reazione emotiva eccetera eccetera però nella misura in cui io noto questi comportamenti ovviamente li osservo non è che il primo mal di pancia chiamo il pediatra e dico oddio è stress oddio c'è qualcosa sotto però nella misura in cui vedo che è un comportamento che si ripete nel tempo allora deve essere monitorato e tenuto in considerazione perché effettivamente mi sta dicendo forse qualcosa che io che io non vedo anche prima avevo messo adesso non so se riesco a tornare nella slide prima però un altro libro un'altra lettura sempre adesso era qua direi esatto questa la felicità non sta mai ferma di Chiara Garbarino che ha sempre una lettura molto carina qua più legato ovviamente alla DHD invece quello di Stella che ho messo nell'ultima slide è una lettura più legata ai disturbi e all'apprendimento ho voluto mettere questi due libri perché appunto non sono manuali con linee guida teorici ma a volte secondo me dare una lettura proprio andando a a mettersi nei panni di questi bambini quindi a spostarsi nella loro prospettiva a decentrarsi nella loro prospettiva ci dà più informazioni rispetto quasi a manuale teorico quindi secondo me questo è un aspetto molto molto importante io ho concluso la mia parte sulle emozioni come dicevo prima a volte tendenzialmente possono esserci altre emozioni se qualcuno di voi effettivamente dice ma io noto anche la vergogna come dicevo prima la vergogna cioè sia che sia una DHD sia che sia un DSA e anche lì è legata alla frustrazione cioè io mi vergogno e quindi anche nelle interrogazioni nelle verifiche quando devono fare devono fare una prestazione magari tendono a mettere in atto poi diventare tutti rossi iniziare a balbettare fanno proprio fatica perché c'è la parte di giudizio altrui a cui loro effettivamente fanno la parte di giudizio degli altri che sia l'adulto che sia i coetanei è una cosa che li colpisce molto quindi mettono in atto anche lì comportamenti che siano di evitamento o di attacco di chiusura comunque e faticano poi nella prestazione quindi vergogna o gelosia sono geloso del mio amico perché lui ha tutto quello che io non ho e si potrebbe continuare con altre emozioni ma questo non vuol dire che queste emozioni qua ci siano solo queste emozioni magari disfunzionali o con una lettura un po' negativa su cui bisogna stare bisogna lavorarci ci sono anche emozioni di gioia e felicità sono bambini di ADHD poi molto creativi così come anche i DSA e sono bimbi molto vivaci e a volte invece sono anche proprio leader positivi della classe perché hanno molte competenze se ci sono delle domande io ho finito ti posso leggere una domanda che è arrivata per te e possono esserci difficoltà scolastiche dovute a disturbi emotivi affettivi che non riguardano i DSA possono possono essere causa e non effetto di difficoltà scolastiche cioè quindi se anche solo un disturbo emotivo può al di là che ci sia un DSA che sia una ADHD beh sicuramente tutta questa componente qua delle emozioni di aspetti emotivi non è tipicamente esclusivamente solo della DHD e dei DSA ci sono anche tanti altri bambini che magari non hanno un disturbo ma magari qualche difficoltà anche ad esempio nella gestione della frustrazione ci sono bambini ad esempio che hanno semplicemente un'ansia da separazione e faticano a staccarsi dall'adulto e che quindi poi a livello scolastico portano questa ansia e la riportano anche a livello scolastico ci sono anche bambini semplicemente appunto con un disturbo d'ansia un disturbo a volte ci sono bimbi con aspetti più depressivi che sono svincolati da queste diagnosi di cui abbiamo parlato stasera sicuramente la cosa fondamentale da fare è sempre una parte di monitoraggio come dicevo prima monitorare se effettivamente è una tantum cioè mio bimbo torna a casa adesso sto escludendo la parte di DSA DHD però torna a casa con un carico emotivo un carico di stress particolarmente rilevante torna una volta poi il giorno dopo è tutto tranquillo a posto perfetto ma nella misura in cui una settimana torna con un carico emotivo di un certo tipo la settimana dopo ritorna con un carico emotivo di un certo tipo allora io mi devo fermare un attimo e andare a fare una riflessione in merito alle difficoltà che può riscontrare e cosa perché sicuramente c'è un fattore scatenante che ha portato poi a questa gestione delle emozioni disfunzionali magari Sì rispondo io magari Caterina a questa domanda specifica sulla valutazione di Licia che chiede è consigliabile fare una valutazione per un sospetto ADHD prima dell'inserimento all'elementare sì anzi è assolutamente suggerita quindi soprattutto per i genitori o gli insegnanti che ritrovano alcuni sintomi specifici quindi la difficoltà d'attenzione la facile distraibilità la difficoltà nello stare su un'attività per un tempo pari o più o meno pari a quello degli bimbi della stessa età oppure se vi sono tutti i segnali precoci che abbiamo visto prima una valutazione anche di un bimbo alla scuola materna è assolutamente consigliata perché ci consente di intervenire precocemente su eventuali difficoltà attentive di memoria qualsiasi tipo di difficoltà da un punto di vista neuropsicologico che può emergere dai test quindi sì è consigliata c'era anche un'altra persona non so poi se sarà ancora in linea Flavia giusto che chiede che tipo di strumenti si utilizzano nell'intervento psicologico sto leggendo e allora tendenzialmente come intervento io lavoro molto con la terapia cognitivo comportamentale quindi lavoro molto sui pensieri uso molto i manuali di Mario Di Pietro che sono dei manuali Ericsson che sono veramente fatti molto bene che c'è tutta una parte un po' di psicoeducazione quindi si vanno a toccare tutte le emozioni di cui ho parlato anche stasera e lavorando molto sui pensieri su queste credenze che il DSA e gli ADHD hanno molto radicate e quindi si cerca un po' di mettere in discussione questi pensieri e si lavora come dicevo proprio molto su sulle cognizioni e l'impatto che poi determinate cognizioni hanno sulle emozioni dei bambini quindi io uso molto questi manuali qua e faccio tutta una parte proprio che riguarda i miei studi sul cognitivo comportamentale rispondo Alice che chiede per fare eventuale richiesta di sostegno scolastico la valutazione per ADHD eseguita da un privato dovrà essere validata dall'ASL allora il sostegno scolastico è previsto nei casi di ADHD gravi se il bambino nonostante l'ADHD può ridurre comunque la sintomatologia presente attraverso vari tipi di potenziamento attraverso diversi interventi di cui abbiamo parlato prima il parent training il supporto psicologico al bambino i training di attenzione io consiglio sempre di aspettare con un sostegno scolastico nei casi di gravità quindi se c'è un ADHD grave appunto e da richiesto un sostegno se la valutazione è stata fatta privatamente va comunque convalidata da parte dell'ASL perché tutta la gestione della richiesta dell'insegnante di sostegno è comunque gestita dal servizio pubblico quindi può essere fatta tutta la valutazione privatamente quindi tutti i test di cui abbiamo parlato prima possono essere fatti privatamente poi però la relazione va inviata dal professionista in ASL e lì la famiglia dovrà aspettare che venga chiamata per l'esame medico quindi il bambino e la famiglia dovranno andare di fronte ad una commissione medica la quale farà determinate domande al bambino e alla famiglia valuterà tutto i documenti sia la relazione clinica del professionista che ha visto il bambino e valuterà appunto se può essere appunto affiancato il bambino da un insegnante di sostegno oppure no rispondo a Eva che chiede in che misura la bassa autostima legata a queste difficoltà porta i soggetti da adolescenti adulti ad evitare di intraprendere percorsi di vita che richiedono un impegno nel campo dell'istruzione quindi università eccetera sicuramente nella misura in cui io non vado a lavorare sull'autostima rischio effettivamente che ci sia un disimpegno nel percorso scolastico cioè sia che sia una DHD sia che sia un DSA quindi è veramente importante andare a a lavorare sull'autostima perché ad esempio se io ho insuccessi ripetuti è inevitabile che nel tempo la mia immagine l'immagine di me sia negativa e quindi vivendomi come incompetente come incapace nell'area della matematica incapace nell'area umana è ovvio che mi dica cosa posso fare affinché ci sia meno quella poi adesso Alessandra mi dirai anche tu anche in base alla tua esperienza però effettivamente il rischio che se permane nel tempo una bassa autostima il loro rimanga questa idea di essere incapaci e quindi bisogna cercare sia come insegnanti come genitori come professionisti quindi come psicoterapeuti di andare proprio a lavorare su queste credenze che hanno di incapacità impotenza inadeguatezza perché se no se un bimbo si sente inadeguato alla scuola primaria si porta avanti quest'idea di inadeguatezza alla scuola media alle superiori cioè è qualcosa che rimane radicato in lui e non lavorandoci sopra rimarrà anche poi in età adulta e quello che noi magari possiamo fare è vedere le potenzialità e le risorse del bambino perché a volte effettivamente ci sono delle difficoltà come ha fatto vedere prima Alessandra che sono concrete magari difficoltà nella matematica allora insieme al bambino si guarda un po' quali sono invece le loro potenzialità o le aree in cui loro riescono a esprimersi meglio effettivamente molti DSA molti ADHD sono molto bravi nella parte più artistica quindi molti ad esempio ragazzi che io ho seguito anche in adolescenza hanno scelto scuole più legate a quella parte artistica dove poter fare vedere il loro estro il loro talento quindi sicuramente le scelte sono dettate anche dalla percezione che hanno di loro e delle loro competenze sì un altro passaggio secondo me importante è quello di spiegare ai genitori che cos'è il disturbo che sia il disturbo dell'apprendimento o ADHD presente nel loro bimbo perché molto spesso quando il genitore non conosce i sintomi specifici del disturbo prende tutte queste difficoltà del bambino interpreta tutte queste difficoltà del bambino come sbogliatezza quindi magari sia che ci sia un disturbo di attenzione un disturbo specifico dell'apprendimento quindi il bambino fa fatica a stare sul compito per tanto tempo per i motivi che abbiamo visto prima nel momento in cui il genitore sa che questa difficoltà è una difficoltà oggettiva non è un capriccio del bambino ma può essere di peso proprio dal fatto che il bambino dopo 15 minuti ha bisogno un po' di ricaricare le batterie quindi può essere sufficiente anche solo fare un giro per casa a mangiarsi una merendina e poi tornare insomma il genitore quando ha chiara la situazione del bambino quando ha una fotografia del funzionamento del bambino dopo la valutazione spesso cambia proprio anche l'atteggiamento e le reazioni nei confronti del bambino stesso quindi è importante insomma che la valutazione venga fatta non solo per il bimbo ma anche per la famiglia così che possano lavorare i stessi genitori nel modo più funzionale possibile verso il bambino e con il bambino Perfetto io direi Alessandra che possiamo concludere perché effettivamente sono le 22 22 ci eravamo dato una tempistica però sono molto importanti le domande che avete riportato e ci dispiace non poter rispondere a tutte e vi ringraziamo per la partecipazione numerosa è stato un piacere condividere con voi queste sia la nostra parte insomma la parte più teorica che la parte esperienziale che speriamo di essere state utili e quindi niente vi auguriamo buona serata a tutti e nell'eventualità adesso per le slide appunto verranno insomma condivise e troverete lì i nostri contatti io nella chat comunque ho lasciato sia il contatto mail e il numero di telefono della dottoressa Epis sia il contatto mail e il numero di telefono quindi qualora ci sia bisogno sia di consigli ma anche proprio invece una parte di valutazione se avete bambini da inviare una parte più emotiva noi insomma siamo disponibili esatto perfetto grazie a tutti buonanotte grazie grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti